Un arresto per tentato omicidio, una denuncia e il sequestro di oltre 4 kg di sigarette di contrabbando. E questo è il bilancio di una serie di controlli eseguiti dai carabinieri nel quartiere Libertà di Bari. Al setaccio le abitazioni di diversi esponenti della malavita locale e di persone sottoposte agli arresti domiciliari, tutte residenti tra via Nicolai, via Calefati e via Lecce. Più di 50 i militari impegnati nell'operazione alla ricerca di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti. Il primo sequestro è scattato nel corso di una perquisizione in casa di una casalinga di 32 anni che nascondeva nel suo appartamento 21 stecche di tabacchi illegali per un peso complessivo di oltre 4 kg. Alla donna è stata anche contestata una sanzione amministrativa di 21.000 euro. In manette invece è finito un ragazzo di 25 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bari. Il giovane dovrà infatti scontare agli arresti domiciliari una pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione per furto aggravato, furto in abitazione, rapina, danneggiamento e tentato omicidio. In particolare quest'ultimo reato si riferisce alla sparatoria tra due gruppi criminali rivali avvenuta in via Trevisani nel quartiere Libertà il 7 maggio 2016. Lo scontro a colpi di pistola ebbe luogo nel primo giorno dei festeggiamenti per il patrono San Nicola quando le strade del rione erano particolarmente affollate. Ad avere la peggio fu un pregiudicato di 31 anni Andrea De Giglio ferito alla schiena. Circo un mese dopo quell'episodio tre persone vennero arrestate dai carabinieri, compresa la stessa vittima dell'agguato.